e io non ho capito e io ho capito parola si benvenuti in questo video da tantissimo tempo che non fa che non facciamo video insieme io e che mi erano quindi oggi faremo una creepypasta come i vecchi tempi la creepypasta in questione è non esistenza avete mai pensato a quando la morte si è spaventosa? soffermatevici un momento l'unica cosa di cui non sappiamo praticamente è l'unica molte persone potrebbero parlarvi di cose religiose come le incarnazioni o vita ultraterrena altri invece dicono di volersi concentrare unicamente sulla vita ma pensateci è davvero qualcosa al di là della nostra portata e se i religiosi si sbagliassero se la morte fosse realmente uno stato di non esistenza che prevale nel momento in cui Shabella smette di funzionare terrificante però ovviamente seguendo questo ragionamento tu neanche ti accorgeresti di essere morto poiché non esiste però mettiamo che qualcuno possa darvi prova di questa non esistenza proponiamo che questa persona sia in grado di farti vivere lo stato di non esistenza è ancora più importante che riesca a fartelo ricordare probabilmente accetteresti qualunque clausola pur di salvarti da quel terribile destino tecnicamente per alcune persone vicino alla morte il loro cervello perde completamente l'attività per qualche secondo tipo 3 dopodiché ritorna in funzione per morire nuovamente in maniera convenzionale parlando d'altro in molti ospedali spesso si può vedere un uomo vestito con un abito nero che non figura in nessuna lista del personale o dei pazienti ancora più interessante è chiedendo alle persone presenti nell'ospedale del perché di un abito nero allora le potrai vedere agitarsi un momento risponderti che la tua domanda è insensata e che sono sicura di non averlo mai visto prima chiedi loro dell'uomo comunque e potrai vederle impietrissi sul posto agitarsi violentamente e rispondere quale uomo ora passiamo alla seconda creepypasta uno speciale visto che abbiamo fatto molta assenza in questi in questi giorni e la creepypasta è su un gioco molto conosciuto di Roma Call of Duty immagino che tutti conoscono il videogioco Call of Duty Modern Warfare 2 sviluppato dall'infinite e vuole e immagino che tutte le persone che ci hanno mai giocato conoscono la modalità operazioni speciali in cui si può giocare alcune piccole missioni da soli o in co-op cioè in cooperativa ce n'è una in particolare chiamata nascosto in cui i giocatori devono raggiungere il punto di recupero in un altro da vicino alle rovine di Ciappoli combattendo contro cerchini nascosti nell'erba e contro squadre di nemici armati non tutti però sanno che all'inizio della missione è presa da un punto in cui è possibile uscire dalla mappa non è un luogo quasi introvabile ma si trova proprio sotto il tuo naso nel punto in cui ci sono due automobili una sopra l'altra è possibile salire da lì e saltare su una cassa metallica da cui poi si può saltare oltre la siepe che funge da conviene della mappa fatto ciò dopo alcuni glitch grafici si può osservare una zona vastissima e molto curata quasi fosse fatta apposta rappresenta Chernobyl una delle mappe di Call of Duty 4 Modern Warfare spingendoci molto più di là gli edifici sembrano attraversabili e ad un certo punto anche il terreno perde la sua solidità nel vuoto uno potrebbe pensare sarà un piccolo bug oppure semplice hanno riciclato la mappa del modern warfare per non doverne fare un'altra ma c'è una storia che potrebbe rendere questa affermazione aiutata il primo scoprì questo bug fu un ragazzo americano che aveva comprato il gioco poco dopo la sua uscita nel 2009 finita la campagna dato che anche la verità molti giocatori non era stancato trovò le operazioni speciali completò le prime missioni alla massima difficoltà fino a quando non arrivò appunto alle scuole eliminò le prime guardie quando fu attaccato dei primi cerchini pensò che da una posizione sopraelevata avrebbe potuto ucciderli facilmente quindi salì sulle auto uccissi i cerchini notò che da quella posizione ci poteva arrivare alla cassa metallica e da lì provò a saltare oltre la siepe ce la fece era molto emozionato del fatto che aveva scoperto un bug e non vece molta attenzione all'ambientazione andò semplicemente avanti ad un certo punto il ragazzo si spaventò tantissimo sto ancora cercando altre informazioni che si spaventò